Ernando del Segreto, 7 cose che non sai sul più bello della SOP Ernando nella SOP Il Segreto è interpretato dall'attore Angel De Miguel. Non a caso lo si può definire il più bello di tutti i personaggi che gravitano intorno alla serie, proprio per il suo aspetto affascinante e tenebroso al tempo stesso. Ernando dos Casas, inizialmente odiato dagli abitanti di Puente Viejo, con il passare del tempo riesce sempre di più a farsi amare. Fin dalla prima puntata, in cui ha fatto la sua comparsa nella SOP, tutti lo hanno notato, non solo per la sua bravura come attore, ma anche per il suo aspetto mozzafiato. Angel De Miguel è stato molto apprezzato dal pubblico degli appassionati, in particolare le telespettatrici e non solo quelle italiane. Ma cosa ne sappiamo veramente di lui sulla sua vita privata? Vogliamo svelarvi alcune curiosità che non molti conoscono, per saperne di più su di lui. Un passato da calciatore È stato proprio lui, in diverse interviste, a raccontare che prima di fare l'attore, praticava l'attività sportiva e faceva il calciatore. Ha giocato in molte stagioni calcistiche di buon livello, anche se in categorie minori. Tuttavia, a causa di un infortunio, ha deciso di lasciare il calcio. Ha rivelato anche di aver lavorato nel settore bancario. La decisione di fare l'attore è arrivata dopo, anche con l'obiettivo di superare la sua proverbiale timidezza. Ha maturato la possibilità di fare l'attore, dopo aver frequentato un corso di teatro. Le prime esperienze sul set Angel de Miguel ha spesso raccontato come sono state le prime esperienze sul set, a partire da quelle nelle interpretazioni di Hernando. Ha fatto sapere che inizialmente non è stato semplice per lui superare il suo carattere timido, però di contro ha messo in campo due altre caratteristiche della sua personalità, la determinazione e la caparbietà. Lo ha aiutato anche il senso di onestà e di protezione, che hanno reso l'attore in sintonia con il personaggio interpretato. L'attore ha rivelato che prima di essere chiamato per la parte di Hernando, avrebbe deciso di cambiare paese e di lasciare tutto, per avere altre opportunità di lavoro. Aveva persino venduto immobili e annullato il contratto di affitto per andare a vivere in Messico. Alla fine è arrivata la chiamata per il segreto. La fidanzata di Angel Del Miguel Il bell'attore è fidanzato con una ragazza probabilmente francese e si chiama Natalia. Proprio con lei condivide i momenti più belli della sua vita. Chi lo segue su Instagram avrà visto sicuramente le foto che li raffigurano in teneri e bracci e baci. Il nome Natalia dovrebbe essere quello vero, almeno così si deduce dalle descrizioni sui social. Su Instagram in realtà Natalia si chiama Han Deul. Sul suo profilo Instagram, non molto tempo fa, le ha dedicato un messaggio molto dolce, in cui dice di essersi innamorato e poi specifica Stiamo insieme perché ho deciso di svegliarmi tutti i giorni con lei. Ho scelto te infinite volte. I due sono inseparabili e cercano di passare molto tempo insieme, dividendosi soprattutto tra la Spagna e la Francia. Angel Del Miguel e i social L'attore è molto presente soprattutto sui suoi profili Instagram e Facebook. Sui social network condivide spesso le foto che loro affigurano sul set, ma anche nella sua vita privata. Proprio Angel ha fatto sapere, rilasciando un'intervista a un sito spagnolo, che quando è felice per qualcosa sente l'esigenza di condividerla con i suoi fans su internet. La passione per le moto e per i viaggi Da come si può dedurre anche dai suoi scatti postati sui social, Angel Del Miguel ha la passione per le moto, che usa anche per i viaggi con la fidanzata. Un altro dei suoi interessi è proprio quello per i viaggi. I suoi luoghi preferiti in cui recarsi sono i paesi esotici e l'America Latina. In viaggio ama l'avventura. Angel Del Miguel ama gli animali e il buon cibo. Dalle foto postate sui social, Angel Del Miguel mostra il suo amore per gli animali. Ha due cagnolini e dai video che pubblica risulterebbe che abbia anche un gatto. Inoltre, nonostante il suo fisico scultorio non lo faccia pensare, ama anche la buona cucina e il cibo e gli piace anche cucinare. Il cast come una seconda famiglia. Angel ha raccontato di aver instaurato un ottimo rapporto con tutti gli attori del segreto e gli stesso li considera come una seconda famiglia. Ha sempre detto di essere entrato a far parte del gruppo in punta di piedi, soprattutto per fare esperienza, imparando il più possibile dagli altri che recitano la SOP. E voi, cosa ne pensate di Angel Del Miguel? Vi piace il personaggio di Hernando? Diteci qual è l'aspetto della sua personalità che amate di più. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. ! Ciao! Grazie a tutti.